Ha benedetto la sinergia tra istituzioni che all'Aquila ha permesso di aprire un centro vaccinale all'avanguardia in pochissimo tempo ringraziando gli artefici, il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario per l'emergenza che dopo Pescara ha fatto tappa in città nel centro di San Vittorino. I temi affrontati con i giornalisti dopo il giro nel centro vaccini mentre sono proseguiti all'interno le somministrazioni sono gli stessi affrontati a Pescara. All'Aquila ha voluto ricordare anche la grande tradizione alpina, ha assicurato la disponibilità di vaccini, ha sostenuto che i vaccini sono l'unica arma e sono tutti efficaci, ha parlato dell'allargamento della campagna d'altra età e ha detto, sollecitato dai cronisti, che i giovani per il momento dovranno aspettare, poi si aprirà anche a loro sperando di arrivare presto all'immunizzazione di massa. Per le aree interne tre team mobili in più riusciranno a coprire meglio le zone montane e a far superare le criticità. Il capo della protezione civile Fabrizio Curcio accanto a lui ha speso per l'Aquila che conosce bene parole importanti. Venire in Abruzzo è sempre un momento di grande emozione, soprattutto la città dell'Aquila che mi ha visto crescere professionalmente e umanamente. Noi andiamo sui territori per portare poi a livello nazionale le esperienze, le necessità, le richieste, le pratiche migliori e le criticità che il territorio ci fa vedere. E a valle di queste riunioni, incontri, noi poi facciamo delle riflessioni, delle riflessioni importanti che cerchiamo di riportare a livello nazionale. Qui in questa città, basta vedere come è stato organizzato questo centro, si vede che proprio l'espressione di un territorio che insieme si mette per cercare di venire fuori. Quindi un plauso all'organizzazione, a coloro che stanno dando il loro tempo in maniera volontaria, io l'ho già detto, guardate non è scontato che ci siano delle persone che si mettano a disposizione in maniera così generosa. E la città dell'Aquila ne è un esempio da sempre. A fare gli onori di casa, il manager della Asluno, Roberto Testa e tantissime altre istituzioni presenti. Il generale ha detto che in maggio sarà un mese un po' particolare, ma poi ci sarà a questo ulteriore approvvigionamento. È emerso molto importante anche una considerazione sull'aspetto proprio orografico, geografico della nostra regione, soprattutto in particolare della nostra provincia, che sicuramente determinerà anche una rivisitazione, anche in termini organizzativi, delle modalità di vaccinazione.